Erano quasi le 2.30 quando il rogo è divampato nel centro di accoglienza per minori a Edis a Santa Caterina di Pasian di Prato. In quei momenti drammatici alcuni ragazzi svegliati dal fumo e dalle fiamme pur di salvarsi la vita si sono gettati dal primo piano dell'edificio. All'interno c'erano 11 minori e alcuni educatori. Nel rogo è morto un ragazzo di 17 anni, Ledi Animerai, cittadino albanese. Salvo ma gravemente ustionato un giovane ganese di 16 anni che divideva la stanza con lui. Ferito ma non in pericolo di vita anche un educatore. Ledi Animerai era arrivato a Trieste come minore non accompagnato nel 2020, poi era stato trasferito nella comunità di Pasian di Prato. Qui aveva frequentato le scuole medie e poi le superiori in un centro professionale, seguendo con profitto e interesse il corso come carrozziere, sua grande passione. Era un bravo ragazzo, ricorda il direttore della comunità, ancora sconvolto per quanto è accaduto. Purtroppo un ragazzo non ce l'ha fatta, l'incendio era gravissimo e quindi questa è stata la situazione. Altro non so che dirle, è un momento difficilissimo per noi perché perdono un ragazzo, cosa c'è di peggio? Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dai carabinieri del comando di Udina intervenuti sul posto. Sembra che il fuoco sia divampato da un divano, forse innescato da un mozzicone di sigaretta. È all'interno della propria camera da letto, al secondo piano, dove è stato trovato il corpo di Ledia. È molto probabile che sia partito dal piano primo e poi sia propagato attraverso il vano scale interno al sottotetto. Il giovane ganese di 16 anni, rimasto gravemente ferito, si trova ora ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale di Verona. Gli altri minorenni sono stati subito ricollocati in altre strutture della cooperativa. I ragazzi sono già stati ricollocati nelle altre strutture. La preoccupazione in questo momento è per i residenti degli altri appartamenti del condominio per i quali stiamo verificando la cibilità. Una tragedia veramente inaspettata ed è anche piuttosto incomprensibile perché stiamo parlando di strutture altamente qualificate. L'immobile è ora sotto sequestro, l'assalma del giovane 17enne a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni si stabilirà quando eseguire l'autopsia.